E' acceso? Signorina Poz, se trovi questa registrazione, non rattristarti. La fine è parte del viaggio. Essere alla deriva nello spazio senza alcuna possibilità di salvezza è più divertente di quanto sembri. Cibo e acqua sono finiti quattro giorni fa. L'ossigeno finirà domattina. Eppure, quando mi addormenterò tu sarai nei miei sogni. Sempre tu. Danos ha fatto quello che aveva annunciato. Ha sterminato il 50% di tutti gli esseri viventi. Abbiamo perso tutti. Abbiamo perso amici, familiari. E una parte di noi stessi. Combattiamo per la sopravvivenza. Funzionerà, Steve. Lo so bene. Perché altrimenti non saprei che fare. Salve, c'è qualcuno in casa? Sono Scott Lang. Ci siamo conosciuti qualche anno fa all'aeroporto in Germania. Ero parecchio grosso. È un vecchio messaggio. Ant-Man! Ma questo lo sapete! È al portone. Sono io! Mi aprite? Mi aprite! Grazie a tutti.